E devo dire che ho molta fiducia nei cittadini e nelle cittadine italiane. Ne ho un po' meno sulla mia salute. Sarà poco più di un saluto, perché come dire, sto benissimo. È una brutta incaduta di un'influenza che non ho curato bene. Siete stati, siamo stati capaci di creare un progetto politico ed elettorale nuovo, nel nome della serietà e nel nome dell'Europa. L'Europa delle libertà, del diritto, dei diritti, l'Europa del lavoro e della crescita, del mercato e della concorrenza. Ma anche un'Europa attenta ai più fragili. A Denauer, quando l'ho letto, mi ha molto impressionato. Quando disse che gli Stati Uniti e l'Europa è diventata una realtà per molti, sarà una necessità per tutti. Amore, 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 amore anche l'Europa. Amore, 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 amore. Muscate il microfono. Comunque vado alle cose domenica. Abbiamo già vinto, ricordatelo. Grazie